Il maestro delle poste, Pushkin Il registratore collegiale, dittatore della posta, Principe Biasemsky Chi non ha maledetto i maestri delle poste? Chi non li ha ingiuriati? Chi, in un momento d'ira, non ha richiesto loro il libro fatale, per scrivere in esso il proprio inutile reclamo per angherie, villania e negligenza? Chi non li considera rifiuti del genere umano, pari agli scritturali d'un tempo, o almeno ai briganti di Muromsk? Tuttavia, siamo giusti, cerchiamo di entrare nei loro panni, e forse ci metteremo a giudicarli con molta più indulgenza. Che cos'è il maestro delle poste? Un vero martire della quattordicesima classe, riparato dal suo grado soltanto dalle percosse, e anche non sempre, vi rimetto alla coscienza dei miei lettori. Qual è l'ufficio di questo dittatore, come lo chiama scorzosamente il Principe Biasemsky? Non è una vera galera, nessuna pace né di giorno né di notte. Tutta la stizza accumulata durante il viaggio noioso, il viaggiatore fa scontare al maestro delle poste. Il tempo è insopportabile, la strada è cattiva, il postiglione è testardo, i cavalli non tirano, ma il colpevole è il maestro delle poste. Entrando nella sua povera abitazione, il passeggiaro guarda a lui come a un nemico. Buon per lui, se ha la fortuna di liberarsi presto dell'ospite indesiderato. Ma se capita che non ci siano cavalli? Dio mio, che ingiuli e che minacce cadranno sul suo capo! Con la pioggia e col fango, egli è costretto a correre per i cortili. Nella tempesta, nel gelo dei giorni intorno all'Epifania, egli se ne va nell'anticamera, per riposarsi soltanto un momento, dalle grida e dalle spinte del cliente irritato. Arriva un generale, il maestro delle poste tremante gli dà le due ultime troichi, fra cui anche quella destinata ai corrieri. Il generale se ne va, senza dirgli grazie. Cinque minuti dopo, un sonaglio e un messo di gabinetto gli getta sulla tavola il suo buono per il cambio dei cavalli. Cerchiamo di penetrar tutto questo per benino, e invece che di sdegno, il nostro cuore si riempirà di sincera compassione. Ancora qualche parola. Per vent'anni di fila ho viaggiato la Russia in tutte le direzioni. Quasi tutte le strade postali mi sono note. Alcune generazioni di postiglioni mi sono ben conosciute. È raro il maestro delle poste che io non conosca di viso. È raro quello con cui non abbia avuto a che fare. La curiosa riserva delle mie osservazioni di viaggio spero di pubblicarle in un tempo non lontano. Frattanto dirò solamente che la classe dei maestri delle poste appare all'opinione comune nell'aspetto più falso. Questi tanto calunniati maestri delle poste in generale sono persone pacifiche, servizievoli per natura, inclini alla socievolezza, modeste nel pretendere degli onori e non troppo interessate. Dai loro discorsi, che i signori passeggeri inopportunamente disdegnano, si possono ricavare molte cose curiose e istruttive. Per quel che riguarda me, confesso che preferisco la loro conversazione ai discorsi di qualche funzionario della sesta classe che conduca un'inchiesta per affari del fisco. Si può facilmente indovinare che ho degli amici nell'onorata classe dei maestri delle poste. In verità, il ricordo di uno di essi mi è prezioso. Un tempo le circostanze ci unirono e appunto di lui ho intenzione di discorrere ora con i gentili lettori. Nel 1816, nel mese di maggio, mi capitò di attraversare il governatorato di Asterisco per una strada ora soppressa. Avevo un grado modesto, viaggiavo con cavalli delle poste e pagavo per due cavalli. Per conseguenza i maestri delle poste non facevano complimenti con me e spesso io prendevo con la forza quello che, secondo la mia opinione, mi spettava di diritto. Essendo giovane e collerico, mi indignavo della bassezza e pusillanimità del maestro delle poste, quando quest'ultimo concedeva a un signore d'alto grado per il suo calesse e la troica preparata per me. Altrettanto a lungo non potei abituarmi anche al fatto che un servo dotato di discernimento dimenticasse di servirmi una portata al pranzo d'un governatore. Adesso l'uno e l'altro fatto mi sembrano essere nell'ordine delle cose. In verità, chi accadrebbe di noi se invece della regola comoda per tutti, il grado rispetti il grado, se ne introducesse nell'uso un'altra, per esempio, l'ingegno rispetti l'ingegno? Che controversie sorgerebbero? E i servitori da chi comincerebbero a servire le vivande? Ma torno al racconto. Era una giornata calda. A tre miglia dalla posta di Asterisco, cominciò a più vicinare e dopo un momento una pioggia di rotta mi bagnò fino alla camicia. Arrivando alla posta, il mio primo pensiero fu di cambiarmi presto, il secondo di chiedere il tè. Ehi, Dunia, gridò il maestro delle poste, metti sul samovar e va a prendere la panna. A queste parole, di là dal tremezzo, venne fuori una fanciulla di quattordici anni e corse nell'anticamera. La sua bellezza mi colpì, e tuo figlio domandai al maestro delle poste. Mia figlia, sì signore, e gli rispose con aria di soddisfatto orgoglio. E così ragionevole, così svelta, tutta la sua povera mamma. A questo punto egli si mise a trascrivere il mio buono per il cambio dei cavalli, e io m'occupai a esaminare i quadretti che adornavano la sua umile ma pulita di mora. Essi rappresentavano la storia del figliol prodigo. Nel primo, un onorando vecchio in berretto da notte e veste da camera, congeda un giovane impaziente che accoglie frettoloso la sua benedizione, e un sacco coi denari. In un altro è rappresentata, a vivaci colori, la condotta dissoluta del giovanotto. Egli è seduto a tavola, circondato da falsi amici e da donne impudiche. Poi innanzi, il giovane è rovinato, vestito di cenci e con un cappello a tricorno, pascia i porci e divide il cibo con loro. Sul suo volto sono raffigurati un profondo dolore e pentimento. Finalmente è rappresentato il suo ritorno dal padre. Il buon vecchio, col medesimo berretto da notte e la veste da camera, gli corre incontro. Il figliol prodigo sta a ginocchioni. In prospettiva un cuoco uccide un vitello grasso, e il fratello maggiore interroga i servi sulla causa di questa contentezza. Sotto ogni quadretto lessi dai versi tedeschi adattati. Tutto questo si è conservato fino ad ora nella mia memoria, allo stesso modo dei vasi con la balsamina, del letto con la tendina valiopinta e degli altri oggetti che allora mi circondavano. Vedo come fosse ora lo stesso padron di casa, uomo di una cinquantina d'anni, fresco e forte, e il suo lungo sopravvito verde con tre medaglie appese a nastri scoloriti. Non fece tempo a pagare il mio vecchio postiglione, che Dunia era già tornata col samovar. La piccola civetta, dal secondo sguardo, aveva notato la impressione suscitata da lei su di me. Abbassò i suoi grandi occhi azzurri. Io cominciai a discorrere con lei. Ella mi rispondeva senza nessuna timidezza, come una fanciulla che avesse veduto il mondo. Offerse a suo padre un bicchiere di ponche. A Dunia servì una tazza di tè, e cominciammo a conversare tutti e tre, come se ci si conoscesse da un secolo. I cavalli erano già pronti da un pezzo, e io seguitavo a non aver voglia di separarmi dal maestro delle poste e dalla sua figuola. Finalmente li salutai. Il padre mi augurò buon viaggio, e la figlia mi accompagnò fino alla carrozza. Nell'anticamera mi fermai e le chiesi il permesso di baciarla. Dunia consentì. Molti baci posso enumerare da che mi occupo di questo, ma neppur uno mi ha lasciato un ricordo così lungo, così piacevole. Passarono alcuni anni, e le circostanze mi portarono su quella stessa strada, in quegli stessi luoghi. Mi rammentai la figlia del vecchio maestro delle poste, e mi rallegrai al pensiero che l'avrai veduta di nuovo. Ma, pensai, forse il vecchio maestro delle poste è già stato sostituito. Probabilmente Dunia è già maritata. Anche il pensiero della morte dell'uno o dell'altro balenò nel mio cervello, e mi avvicinavo alla posta di Asterisco con un triste presentimento. I cavalli si fermarono presso la cassetta della posta. Entrando nella stanza, riconobbi subito i quadretti che rappresentavano la storia del figlio al prodigo. La tavola e il letto erano al posto di prima, ma sulle finestre non c'erano più fiori, e tutto intorno mostrava la vecchiezza e l'incuria. Il maestro delle poste dormiva coperto da un tulup. Il mio arrivo lo svegliò, si sollevò. Era proprio Simeon Virin, ma com'era invecchiato. Mentre egli si preparava a trascrivere il mio buono per il cambio dei cavalli, io guardavo la sua canizie, le rughe profonde del viso da molto tempo non rasato, la schiena curva, e non potevo stupirmi abbastanza come tre o quattro anni avessero potuto mutare un uomo forte in un gracile vecchio. Ma hai riconosciuto? Gli domandai. Io e te siamo vecchi conoscenti. Può darsi, egli rispose cupamente. Qui la strada è grande, molti passeggeri sono stati da me. Sta bene la tua dunia, seguitai io. Il vecchio aggrottò le sopracciglia. Lo sai Dio, rispose egli. Allora vuol dire che è maritata, dissi. Il vecchio finse di non aver sentito la mia domanda, e seguitò a leggere sottovoce il mio buono. Io misi fine alle mie domande e feci mettere in tavola la teiera. La curiosità cominciava a tormentarmi. E speravo che il ponze avrebbe sciolto la lingua del mio vecchio conoscente. Non m'ero sbagliato. Il vecchio non rifiutò il bicchiere offertogli. Notai che il rum aveva rischiarato la sua tetraggine. Al secondo bicchiere diventò loquace. Si ricordò, o ebbe l'aria di ricordarsi di me, e venne a conoscere da lui un racconto che allora mi interessò, e mi commosse fortemente. Allora voi conoscevate la mia Dunia, e gli cominciò. E chi non la conosceva? Ah, Dunia, Dunia! Che ragazza che era! Chiunque passasse di qua, volevano darla. Nessuno la giudicava male. Il signore le davano dei regali. Una un fazzolettino, l'altra gli orecchini. I signori passeggeri si fermavano apposta, come per pranzare o per cenare, ma in realtà soltanto per guardarla più a lungo. Accadeva che un signore, per quanto arrabbiato fosse, in sua presenza si calmava e parlava benevolmente con me. Vorreste credere, signore? I corrieri e i messi di gabinetto perdevano delle mezze ore a chiacchierare con lei. Era lei che teneva su la casa. Questo era da mettere a posto, quello da preparare, faceva in tempo a far tutto. E io, vecchio, stupido, non la guardavo mai abbastanza. Non ne gioivo mai abbastanza. Non ero io che volevo bene alla mia Dunia? Non ero io che vezzeggiavo la mia bimba? Non faceva forse una bella vita? Ma no. Gli scongiuri non liberano dal malanno. A quel che è destinato non si scampa. A questo punto egli cominciò a raccontarmi minutamente la sua sventura. Tre anni prima, un giorno in una sera d'inverno, mentre il maestro delle poste rigava il suo registro nuovo e sua figlia, di là dal tramezzo, si cuciva un vestito, giunse una troica e il passeggero, un berretto circasso con un cappotto militare, imbaccuccato in uno scialle, entrò nella stanza richiedendo dei cavalli. I cavalli erano tutti fuori. A questa notizia il viaggiatore voleva già alzare la voce e il frustino. Ma Dunia, abituata a scene di questo genere, corse fuori da dietro il tramezzo e si rivolse affabilmente al passeggero, domandando se non sarebbe stato di suo gradimento mangiare qualcosa. L'apparizione di Dunia produsse il suo solito effetto. L'ira del passeggero passò. Egli acconsentì ad aspettare i cavalli e si ordinò una cena. Toltosi il peloso perretto bagnato, svolto lo scialle e gettato giù il cappotto, il passeggero apparve come un giovane ussero snello con dei baffetti neri. Egli si installò dal maestro delle poste. Cominciò a discorrere allegramente con lui e con sua figlia. Servirono da cena. Frattanto erano venuti i cavalli e il maestro delle poste diede ordine che li attaccassero subito senza dar loro da mangiare alla vettura del passeggero. Ma tornando egli trovò il giovanotto che giaceva quasi senza conoscenza su una panca. Si era sentito male. Gli era venuto a mal di capo. Era impossibile partire. Come fare? Il maestro delle poste gli cedette il proprio letto e fu deciso, se il malato non si fosse sentito meglio, di mandare a esse la mattina del giorno dopo a chiamare il medico. Il giorno dopo l'ussero stette peggio. Il suo servo andò in città a cavallo a chiamare il medico. Dunia gli facciò il capo con un fazzoletto bagnato nell'aceto e si sedette vicino al letto di lui col suo lavoro di cucito. Il malato, in presenza del maestro delle poste, gemeva e non diceva quasi neppure una parola. Tuttavia beve due tazze di caffè e gemendo si ordinò il pranzo. Dunia non si allontanava da lui. Ogni momento egli chiedeva da bere e Dunia gli tendeva una tazza con della limonata preparata da lei. Il malato inumidiva le labbra e ogni volta, rendendo la tazza, in segno di riconoscenza, stringeva con la sua debole mano la mano di Duniska. All'ora del pranzo arrivò il medico e gli tastò il polso del malato. Parlò un po' con lui in tedesco e in russo dichiarò che gli ci voleva soltanto tranquillità e che dopo un paio di giorni avrebbe potuto rimettersi in viaggio. Lussero gli mise in mano venticinque rubli per la visita. Lo invitò a pranzo. Il medico accettò. Tutte e due mangiarono con grande appetito. Bevero una bottiglia di vino e si separarono molto contenti l'uno dell'altro. Passò ancora un giorno e Lussero si rianimò del tutto. Era straordinariamente allegro. Scherzava di continuo ora con Dunia ora col maestro delle poste. Fischiettava delle canzoni. Discorreva coi passeggeri. Trascriveva nel registro postale i loro buoni per il cambio dei cavalli. E riuscì tanto simpatico al buon maestro delle poste che la terza mattina gli dispiacque separarsi dal suo gentile pensionante. Si era di domenica. Dunia si accingeva ad andare alla messa. All'Ussero prepararono la vettura. Egli salutò il maestro delle poste e lo ricompensò generosamente per il cibo e per l'alloggio. Salutò anche Dunia e si offerse ad accompagnarla fino alla chiesa che si trovava all'estremità del villaggio. Dunia era perplessa. Di che hai paura? Le disse il padre. Sua signoria non è mica un lupo e non ti mangerà. Fatti portare dunque fino alla chiesa. Dunia si sedette nella vettura. Il servo saltò sulla sponda, il postiglione fischiò e i cavalli partirono al galoppo. Il povero maestro delle poste non capiva in che modo avesse potuto permettere egli stesso alla sua Dunia di andare insieme con l'ussero. Come l'avesse colto quell'accecamento e che cosa fosse accaduto allora alla sua ragione. Non passò neppure mezz'ora che il cuore cominciò a dolergli, a dolergli e l'inquietudine si impadronì di lui fino a tal punto che non si trattenne e andò gli stesso alla messa. Avvicinandosi alla chiesa vide che la gente si disperdeva già ma Dunia non c'era né dentro la cinta né sul sagrato. Entrò in fretta nella chiesa il prete veniva via dall'altare il sagrestano spegneva i ceri due vecchietti pregavano ancora in un angolo ma Dunia in chiesa non c'era. Il povero padre con grande sforzo si decise a domandare al sagrestano se ella era stata alla messa. Il sagrestano rispose che non c'era stata. Il maestro delle poste andò a casa né morto né vivo. Gli rimaneva una sola speranza. A Dunia nella sua giovanile sventatezza era forse venuto in mente di farsi portare fino alla posta seguente dove abitava sua madrina. Egli aspettava in una tormentosa agitazione il ritorno della troica sulla quale l'aveva lasciata andar via. Il postiglione non ritornava. Finalmente verso sera egli tornò solo e ubriaco con una notizia da far morire. Dunia dall'altra posta aveva proseguito con lussero. Il vecchio non pote sopportare la propria sventura. Dovette colicarsi subito in quello stesso letto dove il giorno prima giaceva il giovane ingannatore. Adesso il maestro delle poste considerando tutte le circostanze si accorgeva che la malattia era stata simulata. Il poveretto fu preso da un forte febbrone. Lo trasportarono a esse e al suo posto misero temporaneamente un altro. Il medesimo medico che era venuto dal lussero curava anche lui. Egli assicurò al maestro delle poste che il giovanotto era perfettamente in salute e che già allora egli aveva indovinato la sua malvagia intenzione ma era stato zitto temendo il suo frustino. Dicesse la verità al tedesco o desiderasse soltanto di vantarsi della sua chiaroveggenza certo conciò non con solo appunto il povero malato. Appena rimessosi dalla malattia il maestro chiese al direttore delle poste di esse un congedo di due mesi e senza dire a nessuno neppure una parola della sua intenzione si incamminò a piedi per andare a prendere sua figlia. Dal buono per il cambio dei cavalli sapeva che il capitano Minsky andava da Smolensk a Pietroburgo. Il postiglione che l'aveva portato aveva detto che per tutta la strada Dunia aveva pianto benché viaggiasse sembrava per suo desiderio. Magari pensava al maestro delle poste condurrò a casa la mia pecorella smarrita. Con questo pensiero egli giunse a Pietroburgo presi di mora al reggimento Smilovski in casa in casa ad un sotto ufficiale in riposo un vecchio camerata e cominciò le sue ricerche. Ben presto egli seppe che il capitano Minsky era a Pietroburgo e abitava all'albergo dei Muth. Il maestro delle poste decise di presentarsi a lui. La mattina presto venne nella sua anticamera e pregò di riferire a sua signoria che un vecchio soldato chiedeva di vederlo. L'attendente purendo uno stivale sulla forma dichiarò che il padrone riposava e che prima delle undici non riceveva nessuno. Il maestro delle poste se ne andò e tornò allora stabilita. Minsky stesso gli venne incontro in veste da camera con un berretto rosso. Di che hai bisogno amico mio gli domandò il cuore del vecchio cominciò a fremere gli vennero le lacrime agli occhi e proferì solamente con voce tremante signoria fate questa grazia in nome di Dio Minsky lo guardò in fretta si fece di fiamma lo prese per un braccio lo condusse nello studio e chiuse la porta dietro di sé signoria seguitava il vecchio cosa fatta capo A rendetemi almeno la mia povera dunia vi siete pur cavato la voglia di lei non rovinatela dunque per nulla a quel che ha già fatto non si rimedia disse il giovanotto in un'estrema confusione sono colpevole dinanzi a te e sono contento di chiederti perdono ma non credere che io posso lasciare dunia e la sarà felice te ne do la parola d'onore che bisogno hai tu di lei mi ama sei disvezzata dalla sua condizione di prima né tu né lei dimenticherete quello che è accaduto poi avendogli ficcato qualcosa dietro la manica aperse la porta e il maestro delle poste e il maestro delle poste senza ricordarsi neppur lui come si ritrovò in strada stette fermo a lungo finalmente vide entro la risvolta della sua manica un fascio di fogli li tirò fuori e spiegò alcuni assegnati strazzonati da 50 rubli gli vennero di nuovo le lacrime agli occhi lacrime di indignazione strinse i fogli facendone una pallottola li gettò a terra li calpestò col tacco e andò via allontanandosi di alcuni passi si fermò pensò un poco e ritornò ma gli assegnati non c'erano più un giovanotto ben vestito vedendolo corse verso una vettura di piazza vi salì frettolosamente e gridò via il maestro delle poste non lo rincorse si era deciso ad andare a casa alla sua posta ma prima voleva vedere ancora almeno una volta la sua povera dunia per questo dopo un paio di giorni ritornò da Minsky ma l'attendente gli disse con rudezza che il padrone non riceveva nessuno lo spinse fuori col petto dall'anticamera e gli sbatté la porta sotto il naso il maestro delle poste stette lì stette lì e poi se ne andò quello stesso giorno alla sera egli camminava per la via Litainaya dopo aver fatto cantare un tedeum alla chiesa di tutti gli afflitti a un tratto gli passò accanto di corsa una carrozza elegantissima e il maestro delle poste li conobbe Minsky la carrozza si fermò davanti a una casa a tre piani proprio all'ingresso e l'ussero salì correndo sulla scalinata un'idea felice balenò nel capo del maestro delle poste ritornò indietro e giunto all'altezza del cocchiere di chi è il cavallo amico domandò non è di Minsky è proprio così rispose il cocchiere e tu che vuoi ecco qua quello che è successo il tuo padrone mi ha ordinato di portare un bigliettino alla sua dunia e io mi sono scordato dove la sua dunia abita ma ecco qui al secondo piano sei arrivato tardi amico col tuo bigliettino adesso c'è già lui da lei non importa ribatte il maestro delle poste con un indefinibile moto del cuore ti ringrazio ad avermi informato io poi saprò fare quel che devo e con queste parole salì la scala la porta era chiusa e gli sonò passarono alcuni secondi in un'attesa penosa per lui stridette una chiave li apersero abita qui ad voti a simenovna e gli domandò sì qui rispose la giovane servetta per che cosa ti ci vuole il maestro delle poste senza rispondere entrò in una sala non si può non si può gli gridò dietro la servetta ad voti a simenovna ha degli ospiti il maestro delle poste andava avanti senza ascoltare le due prime stanze erano buie nella terza c'era la luce egli si avvicinò alla porta aperta e si fermò nella stanza magnificamente immobiliata Minsky sedeva pensieroso Dunia vestita con tutto il lusso della moda era seduta sul bracciolo della poltrona di lui come una cavalcatrice sulla propria sella inglese e la guardava Minsky con tenerezza arrotolando i riccioli neri di lui sulle sue dita cintillanti povero maestro delle poste mai sua figlia gli era sembrata così bella era forzato ad ammirarla chi è e la domandò senza alzare il capo egli taceva sempre non ricevendo risposta Dunia alzò la testa e con un grido cadde sul tappeto Minsky spaventato si precipitò per tirarla su e ad un tratto vedendo sulla porta il vecchio maestro delle poste nasce a Dunia e andò verso di lui tremando d'ira di che hai bisogno gli disse stringendo i denti perché mi segui di nascosto dappertutto come un brigante o vuoi ammazzarmi fuori di qua e agguantando con mano forte il vecchio per il colletto lo spinse sulla scaola il vecchio ritornò alla sua abitazione il suo amico gli consigliava di fare una denunzia ma il maestro delle poste ci pensò su ci fece una croce sopra e si decise a cedere due giorni dopo ritornò indietro da Pietroburgo alla sua posta e riprese il suo ufficio ecco già due anni egli concluse che vivo senza Dunia e che di lei non si sa nulla se è viva o no lo sai Dio ne accadde d'ogni genere non è lei la prima non è l'ultima che uno scapestrato di passaggio abbia sedotta e tenuta un poco laggiù e poi abbandonata ce ne molti a Pietroburgo di giovani sciocche oggi vestite di raso e di velluto e domani le vedrai spazzare le strade insieme con gli scalzacani delle taverne quando si pensa a volte che anche Dunia forse va alla perdizione così l'ha infatto peccare senza volerlo ed augurarle la tomba tale fu il racconto del mio amico il vecchio maestro delle poste racconto interrotto più di una volta dalle lacrime che gli asciugava pittorescamente con la sua falda come lo zelante Terentich nella bellissima ballata di Dmitriev queste lacrime erano in parte stimolate dal Pons di cui egli sorbi cinque bicchieri durante la sua narrazione ma comunque fosse e se commossero fortemente il mio cuore separatomi da lui per lungo tempo non potei dimenticare il vecchio maestro delle poste per lungo tempo pensai alla povera Dunia e ancora di recente passando per il paesino di Asterischi mi rammentai del mio amico seppi che la posta di cui egli era a capo era stata soppressa alla mia domanda se fosse vivo il maestro delle poste nessuno pote darmi una risposta soddisfacente mi decisi a visitare il luogo a me noto presi dei cavalli privati e mi avviai al paese di Enne questo capitò d'autunno nuvole grigioniole coprivano il cielo un vento freddo soffiava dai campi i miei tuti portando via le foglie rosse e gialle degli alberi che incontrava arrivai in paese al tramonto del sole e mi fermai presso la casetta della posta nell'anticamera dove un tempo mi aveva baciato la povera Dunia ne venne incontro una grossa donna e alle mie domande rispose che il vecchio maestro delle poste era quasi un anno che era morto che nella sua casa si era stabilito un birraio e che lei era la moglie del birraio me rincrebbe del mio viaggio inutile e dei sette rubli spesi per nulla e di che è morto domandai alla moglie del birraio si era dato al bere Batiuska e le rispose e dove l'hanno seppellito di là dal chiuso accanto alla sua donna buonanima non si potrebbe accompagnarmi fino alla sua tomba e perché non si può ehi Vanka smettila di fare il chiasso col gatto accompagna un po' il signore al cimitero e indicagli la tomba del maestro delle poste a queste parole un ragazzo stracciato di pelo rosso e cieco da un occhio mi corse incontro e mi accompagnò subito di là dal chiuso lo conoscevi la buonanima gli domandai durante la strada come non conoscerlo ma ha insegnato a intagliare gli zufoli un tempo che Dio l'abbia in gloria veniva dall'osteria e noi dietro nonno nonno le nocciole e lui allora ci distribuiva le nocciole faceva sempre il chiasso con noi un tempo e le persone di passaggio lo rammentano ma adesso ci sono poche persone di passaggio se non è l'assessore che viene da queste parti ma quello non si interessa dei morti ecco nell'estate passò di qui una signora quella chiesa del vecchio maestro delle poste e andò a visitare la sua tomba che signora domandai io con curiosità una bellissima signora rispose il monello viaggiava in una carrozza a sei cavalli con tre piccoli signorini e la balia e con un canino nero e quando le dissero che il maestro delle poste era morto lei si mise a piangere e disse ai bambini state buoni e io vado un momento al cimitero e io volevo offrirmi per accompagnarla ma la signora disse la so da me e la strada e mi diede un soldo d'argento una signora così buona giungemo al cimitero un luogo nudo non chiuso da nulla lo sparso di croci di legno non ombreggiate neppure da un albero non avevo mai visto in vita mia un cimitero così triste ecco la tomba del vecchio maestro delle poste mi disse il ragazzo saltando sopra un mucchio di sabbia in cui era piantata una croce nera con un'immagine sacra di rame e la signora venne qua venne rispose vangka e io la guardavo da lontano si distese qui e ci stette a lungo e poi la signora andò in paese e fece chiamare il prete gli diede dei denari e partì e a me diede un soldo d'argento un'ottima signora anch'io diede un soldino al monello e non mi rincrebbe più né del viaggio né dei sette rubli e da me spesi 1830 e poi i non mi rincrebbe più la signora la signora non mi rincrebbe più e poi la signora e poi la signora Grazie a tutti.